Circa 20 milioni di euro l'anno è il controvalore dell'energia elettrica che i concessionari di grandi derivazioni dovranno cedere gratuitamente a partire dal 2020. Questo è quanto prevede l'emendamento al collegato 2020 che è stato approvato lunedì sera dalla maggioranza del Consiglio regionale con l'astensione dei gruppi di minoranza. Beneficiari saranno i territori montani in cui sono presenti le grandi derivazioni, tra questi ovviamente Valtina Valchiavenna dove si concentra il 50% dell'idroelettrico lombardo. Con questa legge regionale, spiega Massimo Sertori, assessore regionale agli enti locali, montagna, piccoli, comuni e risorse energetiche, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche avranno l'obbligo di cedere energia gratuita a regione Lombardia, la quale almeno nella misura del 50% dovrà ridistribuirla per i servizi presenti sui territori provinciali dove insistono le centrali. Per la provincia di Sondrio, interamente montana, è previsto fino al 100%. La norma prosegue l'assessore Sertori, elenca i servizi ai quali potrà essere attribuita l'energia gratuita o la sua monetizzazione equivalente. In particolare verrà data priorità ai servizi sanitari, ai servizi sociosanitari e assistenziali, ai servizi educativi e scolastici, a quelli ambientali e di protezione civile, al trasporto pubblico locale, ai servizi sportivi e ricreativi. L'attività idroelettrica che nella maggioranza dei casi viene svolta nei territori montani, prosegue Sertori, lascia agli stessi risorse importanti da utilizzare per attenuare il maggiore costo dei servizi che nei territori di montagna è elevato. Il provvedimento è dunque un aiuto fattivo per scongiurare lo spopolamento di questi territori. La normativa, conclude l'assessore con delega alle risorse energetiche, è una prima applicazione della legge sul rinnovo delle concessioni idroelettriche, approvata dal governo nel dicembre 2018. Si chiude così oggi la prima parte di un percorso che ha portato dapprima all'approvazione della legge nazionale e ora all'approvazione della prima parte dell'iter regionale.